Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, in audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha voluto ribadire che il passaggio del 2015, che ha portato una terca sin dissesto all'interno di Popolare di Bari sotto la spinta di Banca d'Italia, non è stato la causa del crack dell'Istituto di Credito Pugliese, che a dicembre è entrato in commissariamento e poi successivamente è stato oggetto del decreto da parte del Governo Conte per il suo salvataggio. Nel corso del suo intervento, D'Alberto ha sottoposto all'attenzione dei deputati l'impatto che la Banca ha sul territorio, soprattutto in un abruzzo gravato dalle problematiche della ricostruzione. Dobbiamo riportare un po' di verità, perché c'è stato un messaggio preoccupante, perché se tu individui il problema e individui che quello è stato il problema che ha determinato la crisi, poi la prima operazione per la soluzione del problema può diventare quello, cioè intervieni lì dove tu hai individuato il problema. Ovviamente non è così, questo va ribadito con chiarezza, ma lo dicono i numeri. Nell'audizione alla Camera dei Deputati, oltre ad Alberto, sono stati sentiti anche i pareri di Enzo De Caro, sindaco di Bari, e dei rappresentanti di Banca d'Italia. La vice direttrice generale di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, ha sottolineato come la trasformazione della Banca Popolare di Bari in S.p.A. sia molto importante e rappresenti un passaggio cruciale che deve avvenire in tempi molto, molto stretti. Perrazzelli ha aperto ad un ristoro per i risparmiatori nei casi di comportamenti scorretti registrati in occasione degli ultimi aumenti di capitale, e poi sulla questione della vigilanza, oggetto anche di polemica politica, ha ribadito la correttezza dell'operato di Banca d'Italia. Nelle ultime settimane ci sono stati molti commenti, critiche sul nostro operato, si sono concentrate in particolar modo sia sull'operazione di Tercas che sui tempi del nostro commissariamento. Su Tercas quello che intendo dire in estrema sintesi è che l'operazione aveva il chiaro obiettivo strategico di aiutare Tercas e di aiutare anche l'obiettivo strategico di sviluppo della Bari per linee esterne che era previsto in un piano industriale già del 2012.